Buonasera a tutti e benvenuti. Oggi l'incontro sarà dedicato alla tematica dell'Open Government. In pieno spirito laboratorio dal basso, inizieremo da un'esperienza pratica esistente, in questo senso che è quella di Open Police. Quindi diamo il benvenuto a Vittorio Albino, che è presidente dell'associazione e gli diamo la parola. Ci tenevo a dedicare anche l'incontro al professor Marco Zamperini, che è mancato proprio ieri e quindi ci tenevamo a dedicargli questa giornata. Passo la parola a Vittorio Albino e buon ascolto a tutti. Buonasera, grazie di averci invitato. Oggi io parlerò della nostra esperienza, quella dell'associazione Open Police, nell'ambito delle pratiche della trasparenza in direzione di un governo aperto, dei governi aperti centrali e locali. L'associazione Open Police, come dice il suo nome, ha come missione, come strategia quella di aprire la politica e l'amministrazione attraverso l'accesso ai dati, attraverso l'informazione, attraverso la trasparenza. Nella convinzione che la messa a disposizione dei dati, innanzitutto quelli pubblici, che siano effettivamente pubblici, è appunto una condizione, una precondizione per trasformare, migliorare la politica e l'amministrazione. Una condizione è quella dell'informazione perché ci sia partecipazione da parte dei cittadini alla vita dell'istituzione e dell'amministrazione e perché questo poi possa contribuire a migliorare le decisioni, a migliorare i processi democratici. Le attività dell'associazione Open Police sono cominciate a livello sperimentale oramai quasi una decina di anni fa, quando ancora non si parlava di dati aperti, di open data, come avete sentito parlare anche negli incontri precedenti, e quando semplicemente si ragionava sulle possibilità di sperimentare l'uso della rete, delle nuove tecnologie per migliorare l'accesso ai dati e alle informazioni pubbliche. Dati pubblici che in Italia sono definiti così da sempre, ma che pubblici non sono. Quando poi qualcuno, cittadini, associazioni, non addetti ai lavori, cercano di effettivamente mettere le mani sui dati definiti pubblici, cercano di avere accesso alle informazioni che siano informazioni di natura politica o amministrativa o altro, ecco, si scopre tradizionalmente quella che è la cultura, l'eredità di una impostazione della pubblica amministrazione della politica italiana che è tradizionalmente basata sulla concezione del segreto, per cui i dati amministrativi, i dati che le amministrazioni e le istituzioni acquisiscono e detengono e che riguardano la società, che riguardano la comunità, che riguardano i cittadini e le imprese, tradizionalmente vengono considerati come dati propri, come dati dell'amministrazione, dell'istituzione e non acquisiti, gestiti e in qualche maniera funzione e ricchezza della società, della comunità. Dato questo presupposto, l'intuizione originaria del gruppo di persone che poi hanno dato vita all'associazione Openpolis era che le tecnologie dell'informazione e la rete potevano, proprio in un contesto come quello italiano così chiuso, così costruito intorno ad un scarso rispetto dei diritti di informazione dei cittadini e degli amministrati. Ecco, le tecnologie delle informazioni potevano significare un salto di qualità, un passaggio decisivo rispetto a un'epoca in cui i dati amministrativi, i dati pubblici venivano gestiti soltanto attraverso archivi cartacei, in maniera analogica e quindi detenuti dentro dei grandi cavò e quindi l'accessibilità a questi dati era inevitabilmente soggetta a delle barriere anche di natura fisica. Le tecnologie dell'informazione e la rete potevano, possono cambiare in maniera radicale il significato dell'accessibilità ai dati pubblici, il significato delle possibilità della trasparenza, proprio perché mutano le condizioni innanzitutto economiche e tecnologiche per l'accumulazione e il trattamento e la distribuzione dei dati. Abbiamo voluto cominciare a sperimentare queste nuove possibilità attraverso il nostro primo progetto che è Open Politici. Open Politici è un progetto che nasce dalla scoperta casuale di un archivio digitalizzato presso il Ministero degli Interni, che è l'archivio degli amministratori locali. Un archivio che è detenuto presso il Ministero dell'Interno perché appunto è previsto dalla legge, dal testo unico degli enti locali che ci sia questo database. Un database che raccoglie l'anagrafica di tutti gli eletti dal comune alla provincia alla regione. E questo è un esempio significativo di che cosa significhi dato pubblico e di cosa può essere effettivamente il dato pubblico. Si trattava di un archivio in formato txt, formato di testo, di file, singoli file, ognuno dedicato a ciascuno dei comuni e delle province, quindi migliaia di singoli file e poco aggiornati e in formato difficilmente utilizzabile da cittadini, da utenti ordinari. Scoperto questo database abbiamo pensato di farne semplicemente un sito internet, di importare tutti questi dati e di offrire un accesso a questi dati tra virgolette più umano, umanizzato e quindi aiutare chiunque a rispondere alla domanda chi sono i tuoi rappresentanti. Se tu vivi in una città qualunque, in un comune qualunque dell'Italia, crediamo e credevamo fosse un diritto di ciascuno, fondamentale sapere chi ti rappresenta, quanti sono e quali sono i tuoi rappresentanti in tutti i livelli istituzionali. Ecco, questa risposta era difficilissima, attraverso l'utilizzo di questi dati pubblici poteva essere semplificata, attraverso poi un sito internet, un'interfaccia rivolta ai cittadini, questa domanda poteva trovare una risposta semplice. Così è nato il progetto Open Politici, che è questo qui, adesso qui non so se riuscite, si riesce a vedere parzialmente, banalmente è un sito internet dove si inserisce il nome di una città, rendiamo omaggio a Bari che ci ospita, inserire il nome del comune di qualunque dei migliaia, 8.100 comuni italiani circa, si ha come risposta una pagina di questo tipo, dove sono elencati i rappresentanti dal comune, la provincia, la regione e altro. Andiamo a vedere i rappresentanti del comune, ecco abbiamo suddivise per giunta e consiglio comunale tutti i componenti delle due istituzioni, ad ognuno dei circa 130.000 politici italiani che sono eletti dal comune al Parlamento europeo è dedicata una scheda, una pagina, dove non solo si raccolgono i dati personali, i dati anagrafici, in questo caso il sindaco di Bari, luogo, date di nascita, titolo di studio e professione, ma sono raccolti anche la carriera istituzionale, cioè l'insieme degli incarichi attuali e passati dell'amministratore eletto. Infatti qui vedete che il sindaco di Bari è sindaco e consigliere, come tutti i sindaci, ma oltre a questo abbiamo l'elenco degli incarichi precedenti a quelli attuali. E qui abbiamo già un esempio di come si possano rendere accessibili effettivamente pubblici dei dati come quelli che riguardano i rappresentanti eletti, ma anche di come questi dati possano essere aggiornati e arricchiti attraverso il contributo della comunità. Mutuando un po' la filosofia di Wikipedia, abbiamo pensato che un database che riguarda 130-140 mila individui e che ha un aggiornamento su base quadrimestrale, semestrale o annuale presso il Ministero dell'Interno, quindi che è molto poco aggiornata, ma riguardando un numero così grande di individui, è una base dati che è soggetta a continui aggiornamenti. Pensate quanti sono i consiglieri comunali che cambiano di ufficio, che gli assessori che hanno delle competenze che mutano, delle sostituzioni degli avvicendamenti, dei cambiamenti di gruppo e quant'altro. Quindi sono una base dati che è soggetta davvero a un aggiornamento, a mutazioni che sono quotidiane. Se questa base dati non è aggiornata, evidentemente il suo valore, il suo significato anche di informazione per i cittadini decade. Il problema attuale è sapere chi sono oggi i miei rappresentanti, non chi lo erano un anno fa o sei mesi fa evidentemente. Allora abbiamo pensato di mettere a disposizione questi dati attraverso la rete, ma anche di chiedere a chiunque, ai cittadini, agli amministratori stessi, agli impiegati delle amministrazioni comunali, regionali e provinciali, di contribuire a mantenere aggiornate questa base dati. Per cui sul lato della pagina, che adesso qui non è visibile, sono disponibili dei link che consentono a chiunque di, rispetto a ciascuna delle informazioni inserite, rispetto non soltanto al singolo politico, ma rispetto alla singola carica del politico, di segnalare un aggiornamento, di segnalare un errore, di segnalare una mancanza. Così, in maniera distribuita, nel tempo, abbiamo costruito una comunità che attualmente è di 25-26 mila utenti, i quali collaborano al mantenimento di questa base dati. Non solo, ma ciascun utente registrato può anche inserire delle dichiarazioni dei politici. La richiesta è quella di adottare il politico, di adottare l'amministrazione, quindi sia contribuire a mantenere aggiornati i dati anagrafici o i dati istituzionali sulle carriere e sugli incarichi dei politici, ma anche per ciascun politico eletto, la possibilità di inserire delle dichiarazioni, cioè creare una sorta di memoria collettiva degli impegni e delle dichiarazioni pubbliche dei politici, che possono essere inserite e aggiornate dagli stessi utenti registrati. Qua ne troviamo un esempio, qui rispetto al sindaco di Bari sono stati inseriti da diversi utenti nel tempo varie dichiarazioni. Vediamo una di queste dichiarazioni, ogni dichiarazione è dedicata a una pagina. L'utente inserisce gli elementi fondamentali di questa dichiarazione, cioè qual è la fonte, inserisce obbligatoriamente un link alla fonte in maniera tale da poter verificare la fonte stessa e può taggare, cioè definire gli argomenti della dichiarazione. Cosicché si può costruire in maniera collettiva sia quella che è diventata l'anagrafe pubblica degli eletti più aggiornata e più affidabile presente nel nostro paese, che è al tempo stesso anche una sorta di registro di memoria collettiva di quelle che sono le dichiarazioni pubbliche dei politici e che ha raggiunto le diverse decine di migliaia di dichiarazioni. Questo è, come dicevo, il nostro primo esperimento, il nostro primo progetto che comincia a dare un'idea di quello che può essere la ricchezza per la comunità della effettiva disponibilità di dati pubblici su cui si possono costruire progetti, su cui si possano costruire arricchimenti ulteriori. Vorrei capire come per esempio un'operazione di questo genere si differenzia da una tipo pagella politica, non so se ha mai... cioè che è un fact checking sulle dichiarazioni dei politici, giusto? Quindi che differenza troviamo tra queste due operazioni? Beh, questa... la parte di open politici che riguarda la raccolta delle dichiarazioni è una semplice raccolta delle dichiarazioni. Non c'è nessuna valutazione della veridicità o meno di queste dichiarazioni. È semplicemente una documentazione. In qualche maniera potrebbe essere il presupposto poi del lavoro che viene fatto da siti come pagella politica. È una raccolta di dichiarazioni che viene fatta sulla base di quello che è l'interesse e l'iniziativa degli utenti. La nostra redazione, la redazione che poi si occupa della gestione dei dati di open politici non... questo lavoro lo fa in misura soltanto minore, nel senso che ci limitiamo a controllare quando ci sono delle segnalazioni la veridicità della fonte, cioè la corrispondenza di quella dichiarazione alla fonte, ma non poi il contenuto. Non entriamo mai nel merito della dichiarazione. Prego. Gli utenti vengono, diciamo, in qualche modo... non lo so, c'è una classifica degli utenti che inseriscono delle maggiori dichiarazioni o più... Sì, in qualche maniera sì. C'è una traccia di quelli che sono... c'è una sezione del sito che è dedicata alla comunità, come l'abbiamo chiamata, dove possono essere visti le comunità degli utenti organizzati, differenziati per comune e per regioni e c'è... ci sono diversi criteri di ordinamento del lavoro svolto dai... dai utenti. Ecco qui di base abbiamo... possiamo vedere quelli che sono gli utenti che hanno più contribuito, che hanno inserito più incarichi, che hanno inserito più dichiarazioni. Per esempio, questi vengono ordinati per dichiarazioni. Ecco qui, per esempio, abbiamo quest'utente, Georgia Stark, che è quella che ha inserito più dichiarazioni al momento. Ci sono appunto utenti che hanno inserito diverse centinaia di dichiarazioni, ma poi c'è chiaramente una lunga coda di utenti che hanno inserito qualche decina o qualche dichiarazione, ma appunto trattandosi di attualmente quasi 25.000 utenti è anche importante che ci siano piccoli contributi distribuiti di molti utenti piuttosto che tantissimi contributi di alcuni. Però sì, la finalità principale del sito è quello di creare appunto un'anagrafica la più attuale e più affidabile possibile di quelli che sono i rappresentanti. Insieme a questo, l'altra finalità è di creare una documentazione pubblica delle dichiarazioni, una memoria pubblica delle dichiarazioni senza entrare nella valutazione di queste. Essendo poi organizzate per temi, ecco, si possono anche navigare per esempio singoli temi su cui sono raccolte le dichiarazioni dei politici in base appunto all'argomento che hanno trottato. Un'altra forma di navigazione appunto è invece per istituzioni. Prima abbiamo visto una ricerca che si può fare in base al comune, dal comune abbiamo tutti i rappresentanti eletti, attraverso invece l'altra sezione politici si possono navigare le informazioni per tipologia di istituzione e quindi qui possiamo fare la ricerca per comune, abbiamo tutte le province, le regioni e poi le istituzioni nazionali. Per tornare alla pagina che vedevamo prima del risultato del comune di Bari, appunto abbiamo come informazione base il fatto che ciascun cittadino di Bari ha ben 275 rappresentanti, 65 al comune, 50 alla provincia, 82 alla regione, 20 al senato, 41 alla camera e 17 al Parlamento europeo. Quindi già questo dato quantitativo è un dato che in pochi conoscono ancora meno credo sappiano chi sono effettivamente questi rappresentanti. Attraverso Open Politici appunto in qualche maniera si è cominciato a rispondere a questa prima informazione di natura politica istituzionale elementare in una democrazia. Un passaggio successivo è stato oltre a tentare di chiedersi chi sono i nostri rappresentanti, provare anche a rispondere alla domanda che cosa fanno, che lavoro svolgono, quale attività svolgono nelle istituzioni. E questo è l'altro progetto che si chiama Open Parlamento, il secondo progetto dell'associazione Open Polis. Qui i dati di pertenza, la fonte dei dati che riguardano il Parlamento sono i siti istituzionali di Camera e di Senato. Anche qui si tratta di dati pubblici, ma di dati che sono esposti anche in maniera capillare, approfondita dai siti di Camera e Senato, ma quando abbiamo avviato questo progetto, ossia nel 2009, questi dati erano esposti o in pagine HTML, quindi su pagine web, oppure in file PDF. Quindi sono formati di dati che sono relativamente poco accessibili e poco utilizzabili, sicuramente non direttamente utilizzabili da una macchina. Quindi non rientriamo nella specifica del formato di dato aperto, Open Data, di cui ci occupiamo in queste sessioni, ma in più dati che non sono accompagnati da licenze aperte, cioè non era consentito il loro utilizzo per altri scopi, se non quelli che ne facevano i siti internet istituzionali stessi. Open Parlamento, appunto, tentava, aveva come missione e ha come missione quella di provare a rispondere alla domanda che può farsi un cittadino comune di quale sia l'attività che i suoi rappresentanti svolgono in Parlamento, partendo dalla constatazione che può fare ciascuno di noi, che appunto si parla molto dell'attività politica, dei programmi politici, degli impegni al momento delle campagne elettorali, ma poi chiusa la campagna elettorale, quella nazionali come quelle locali, non si sente più quasi nulla dell'attività specifica svolta dai rappresentanti. Se ne riparla dopo cinque anni, dopo quattro anni, quando ci sono le elezioni. Questa è la tipica impostazione di una democrazia a singhiozzo, diciamo, che si occupa di interloquire con i cittadini soltanto nel momento in cui c'è da chiedere il voto. non c'è possibilità di avere il rendiconto di questa attività, se non quella che viene fatta da loro stessi quando tornano a chiedere il voto o dagli organi di informazione, quindi in maniera del tutto occasionale e sempre, come dire, abbastanza strumentale. Open Parlamento cerca di invece fornire un monitoraggio appunto dell'attività che i rappresentanti svolgono in Parlamento elaborando dati ufficiali, i dati che l'istituzione stessa mette a disposizione e fornendo degli strumenti di analisi e di valutazione di questa attività tendenzialmente accessibili non solo ai detti e ai lavori. Mentre sul sito di Camera e Senato questi dati sono esposti soprattutto ad uso interno fondamentalmente, ad uso istituzionale o ad uso dei rappresentanti stessi. No, poi in Parlamento l'approccio vuole essere appunto quello dell'apertura di un'attività complessa, come quella a volte anche confusa, come quella parlamentare, ma appunto il tentativo è quello di tradurla in un linguaggio attraverso una comunicazione accessibile. Quindi già nell'home page abbiamo questa incitazione a entrare dentro questa attività per informarsi, per monitorare, per intervenire e c'è come dire una presentazione delle informazioni principali, qua ne vediamo soltanto in parte, però diciamo c'è una sezione, una selezione dell'attività parlamentare dove si informa di quelli che sono le ultime votazioni, gli ultimi atti presentati, ma ci sono anche da subito informazioni che riguardano i singoli parlamentari, cioè a dire abbiamo per primi pubblicato in Italia dati presenti sui siti di Camera e Senato, ma non direttamente pubblici, non direttamente accessibili come quelli delle presenze al voto, perché appunto riteniamo, ritenevamo che fosse essenziale non soltanto sapere quali disegni di legge un parlamentare ha presentato, ma qual è la sua assiduità ai lavori del Parlamento, è un elemento probabilmente non il più importante, ma sicuramente è un elemento di valutazione interessante per un cittadino, soprattutto quando si scopre che molti di questi parlamentari in Parlamento non vanno mai o quasi mai. Poi insomma ciascuno può valutare questo dato di fatto in maniera differente o come meglio crede, però che sia facilmente accessibile per tutti crediamo che sia una cosa importante. Appunto, una di queste informazioni è quella della presenza al voto da parte di senatori e deputati, questo dato era presente nei siti di Camera e Senato, ma dentro i tabulati delle votazioni, quindi in una parte molto difficile da raggiungere del sito di Camera e di quello del Senato e comunque una volta raggiunta l'informazione è difficilmente comprensibile perché codificata in maniera particolare e quindi difficilmente interpretabile. Abbiamo creato quindi un software che è in grado di leggere, di fare una sorta di radiografia quotidiana di tutte le centinaia di migliaia di pagine presenti nel sito di Camera e di Senato, estraiamo queste informazioni, le importiamo nel nostro database e tiriamo fuori delle informazioni che sono significative e comprensibili per i cittadini, come la classifica dei più presenti al voto, la classifica dei più assenti, pagine dedicate a ciascuno dei 630 deputati e 315 rotti e 321 senatori, pagine dove sono raccolte tutte le informazioni sulla loro attività, ma anche appunto una pagina riassuntiva come questa dove si può vedere in classifica chi sono i più presenti e chi sono i più assenti. Abbiamo elaborato un indice che si chiama un indice di produttività parlamentare che elaborando i dati sull'attività che svolge ciascun parlamentare, ciascun senatore, ciascun deputato è in grado di valutare qual è la produttività del singolo parlamentare, cioè quali attività di questi parlamentari ha avuto un'efficacia. Voi sapete che buona parte dell'attività, della produzione di atti in Parlamento è una produzione che rimane fondamentalmente inutile, nel senso che gran parte dei disegni di legge, gran parte delle interrogazioni, delle mozioni, interpellanza presentate dai deputati e dai senatori non vengono esaminate da nessuno, cioè vengono presentate negli uffici ma non vengono analizzate né in commissione né in aula. È in gran parte un'attività che i parlamentari svolgono come forma di gestione dei loro rapporti, dei rapporti con l'elettorato di provenienza, gestione delle clientele, lobby e quant'altro, cioè attività che loro svolgono per dire, per far capire a qualcuno che si stanno interessando di una determinata materia, però dal punto di vista parlamentare questi atti non producono nessun risultato, nessun effetto. Allora noi abbiamo pensato di sviluppare un indice, un calcolo che attribuisce all'attività che non produce effetti, un valore nullo, mentre affida ai disegni di legge, alle interrogazioni, alle mozioni e quant'altro che vengono esaminate, che fanno strada nell'iter parlamentare, gli affidiamo un punteggio che vivia crescente man mano che questo atto dalla presentazione va avanti, va in commissione, poi viene votato, viene presentato in aula, discusso, votato fino alla sua approvazione finale, quindi un atto al momento della presentazione vale zero, nel momento in cui comincia a percorrere la strada in suiter, comincia a acquistare peso e quindi punteggio fino a un punteggio massimo che è quello nel momento in cui viene approvato, nel momento in cui per esempio nel disegno di legge diventa legge e così abbiamo sviluppato un indice che si chiama indice di produttività parlamentare e quindi l'attività dei parlamentari può essere analizzata sia attraverso le presenze ma sia attraverso anche una classifica per capire chi sono i più produttivi, chi sono i più assenti e si scopre in questa maniera che generalmente i parlamentari, quelli che più si dedicano all'attività parlamentare sia in termini di produttività sia in termini di presenza raramente sono quelli più conosciuti, raramente sono i leader dei partiti, raramente sono i segretari dei partiti, raramente sono appunto i cosiddetti big e questo appunto offre già delle chiavi di lettura, di interpretazione della realtà politico parlamentare diversa da quella che ne offrono i media in generale o i partiti. Dicevamo che appunto ognuno dei parlamentari ha dedicata una pagina, vediamo per esempio quella di Angelino Alfano, ci sono indicazioni base sugli incarichi che ricopre, in questo caso trattasi appunto di parlamentari ma anche membri del governo e come vedete un membro del governo in questo caso ha presenza dello 0,6% di presenza alle votazioni, è sempre in missione in quanto ministro e ha attività parlamentare pressoché nulla, questo già fa capire come questa, chiamiamo l'abitudine dei componenti del governo di mantenere il doppio incarico, di mantenere l'incarico parlamentare annulla il significato elementare, il significato materiale dell'incarico parlamentare perché semplicemente tutti i membri del governo che sono parlamentari, tutti i ministri, tutti i viceministri, tutti i sottosegretari fondamentalmente nel momento in cui da parlamentari vengono e assumono anche l'incarico di governo poi smettono di svolgere l'incarico parlamentare a meno che non si tratti di correre al voto quando la maggioranza rischia di andare sotto, di non essere sufficiente e questo appunto sono informazioni come dire che alcuni parte dell'elettorato che poi ha votato parlamentari che poi sono diventati membri del governo possono ritenere interessanti. Andiamo a vedere una scheda di un parlamentare che svolge il ruolo di parlamentare, per esempio, sempre sulla A, ecco che qui abbiamo di nuovo casualmente presenze molto scarse in questo caso, neanche giustificate mi sembra da un incarico di governo, no? Però ecco abbiamo una scheda riassuntiva di tutta l'attività svolta dal parlamentare, cioè quanti disegni di legge ha presentato come primo firmatario, quanti come confirmatario, cioè insieme ad altri, presentati da altri, quante interrogazioni ha presentato, quanti in commissione, quanti in aula, quanti emendamenti e a ciascuno degli atti che sono presenti, presentati dai parlamentari, è dedicata una pagina dove, in questo caso è un disegno di legge, ci sono tutte le informazioni che riguardano l'atto, quindi innanzitutto l'iter parlamentare, questo è un disegno di legge che è stato soltanto presentato alla Camera, non è andato ancora in votazione, ci sono raccolti le informazioni appunto su chi sono i primi firmatari, chi sono i relatori di questi e l'iter svolto in commissione, questo è in esame in commissione giustizia, nel caso ci siano state votazioni quali sono, qual è stato l'esito delle votazioni e quali sono stati gli interventi e si può accedere anche a tutte queste informazioni. Se vogliamo vedere appunto ognuna delle votazioni elettroniche che si svolgono in aula, sia in Camera che in Senato, sono disponibili in Open Parlamento e ognuna delle votazioni è dedicata a una pagina, in maniera tale da sapere qual è stato il voto di ciascun gruppo, qual è l'esito della votazione e poi si può avere accesso a quelli che sono i voti svolti da ciascuno dei parlamentari, quindi non soltanto chi era, in questo caso siamo al Senato, non soltanto chi erano i senatori presenti e assenti, ma ciascun senatore quale è stato, quale voto ha espresso. Ecco, tutte queste informazioni erano, come dicevo prima, disponibili, pubbliche, ma poi non accessibili e non in questo formato che può essere facilmente letto e utilizzato da chiunque. Inoltre, un'altra modalità di lettura, di navigazione e di esplorazione dell'attività parlamentare è quella per argomenti, cioè a dire tutta l'attività parlamentare, ogni atto che viene presentato in Parlamento viene analizzato dalla nostra redazione che affida ad ciascun atto un argomento, per cui se un disegno di legge si occupa di questioni di ambiente o questioni di genere viene taggato, viene categorizzato con quell'argomento. Tutti gli atti sono categorizzati in questa maniera e quindi è facile poter esplorare l'attività parlamentare attraverso gli argomenti. Per esempio, se facciamo una ricerca per l'argomento ambiente, ecco che abbiamo tutti i disegni di legge, tutti gli atti legislativi e non legislativi che riguardano quell'argomento. Possiamo quindi sapere quali sono i disegni di legge che sono diventati di legge, quali sono le interrogazioni, le mozioni e gli altri atti non legislativi e possiamo anche decidere da utenti registrati di monitorare quell'argomento, in maniera tale da poter essere informati e aggiornati su tutte le novità che riguardano l'argomento, quindi laddove ci fosse un nuovo disegno di legge verremo direttamente informati in casella di posta elettronica nel momento in cui un disegno di legge già presentato fa un passaggio dalla Camera al Senato, viene approvato in Camera per poi passare al Senato o viceversa, veniamo informati e questo è un modo per seguire l'attività parlamentare in base a una personalizzazione di interessi che quindi può consentire a chiunque di essere informati sugli argomenti di interesse senza doversi collegare ogni volta al sito istituzionale o allo stesso Open Parlamento. Si possono monitorare quindi argomenti ma si possono monitorare anche l'attività dei singoli parlamentari e quindi essere informati su tutte le novità che riguardano l'attività del singolo parlamentare e per esempio nella pagina di un qualunque atto della Camera gli utenti possono anche esprimere un voto, esprimere la loro preferenza, il loro assenso, il loro dissenso rispetto a quell'iniziativa legislativa o a quell'atto parlamentare, possono commentare, cioè possono entrare in relazione con chi dentro le commissioni, dentro le aule parlamentari che svolge l'attività. In questa maniera si prefigura un'idea di integrazione con l'attività che viene svolta dalle istituzioni pensando che nel momento in cui vengono messe a disposizione dei cittadini, delle associazioni di categoria e altro, della società civile, delle informazioni in maniera tempestiva su quello che viene preparato nelle aule parlamentari, nelle commissioni parlamentari, ecco che i cittadini, gli interessati, le persone competenti possono esprimere appunto il loro punto di vista, un commento, una valutazione e quindi tendenzialmente entrare in relazione con l'attività parlamentare, una sorta di audizione non autorizzata che prefigura un modello di collaborazione, un modello di interlocuzione tra cittadini ed eletti che dovrebbe arricchire il senso e la partecipazione dell'attività svolta nelle istituzioni. Sull'esperienza di Open Parlamento abbiamo sviluppato poi un altro progetto che si chiama Open Municipio che fondamentalmente è la trasposizione di Open Parlamento a livello del comune. La pubblicità e la possibilità di accedere effettivamente all'attività politica dell'Aggiunta e del Consiglio Comunale è ancora più ridotta, è drammaticamente più ridotta a livello cittadino rispetto a livello parlamentare, mentre a livello parlamentare comunque i dati erano disponibili sui siti istituzionali e quindi le informazioni di base erano effettivamente accessibili, nel caso del comune la situazione è completamente differente, nel senso che l'unica forma di accessibilità, l'unica forma di conoscenza dell'attività svolta dall'Aggiunta e dal Consiglio Comunale prevista dalla legge è quella dell'albo pretorio. L'albo pretorio online è la sezione del sito del comune dove i cittadini possono scoprire quali sono le delibere di giunta e di consiglio approvate. Solo che l'albo pretorio online è una forma di pubblicità molto molto ristretta perché riguarda soltanto gli atti che sono stati approvati, quindi dopo la loro approvazione, ed è una pubblicità limitata nel tempo, nel senso che questi atti per legge possono essere accessibili per un periodo minimo di 15 giorni, trascorsi i quali se voi siete cittadini di un qualunque comune italiano non è sufficiente che voi paghiate le tasse in quel comune, oppure lavoriate, oppure studiate, oppure semplicemente svolgete una qualche attività in quel comune per conoscere quella che è la legge del comune, bisogna per accedere alla delibera del Consiglio Comunale, che è un po' una sorta di legge del territorio approvata dall'organo rappresentativo che è il Consiglio, bisogna per forza fare una richiesta di accesso agli atti, cioè a dire bisogna dimostrare che voi non soltanto appunto siete un cittadino di quella comunità, ma dovete avere un interesse specifico, un interesse particolare per conoscere il contenuto di quella delibera. In mancanza di questo, un esame che viene svolto dagli uffici, da chi si occupa dell'accesso agli atti, in mancanza di questo vi può essere tranquillamente negato l'accesso ad un atto fondamentale come quello anche di una delibera di Consiglio. Con Open Municipio questo presupposto, questa modalità di accesso agli atti è diametralmente opposta, è ribaltato completamente. Open Municipio funziona in maniera tale da rendere accessibili tutti gli atti e tutti i dati dell'attività politica del Comune, quindi della Giunta e del Consiglio, renderli disponibili, dicevo, immediatamente. Ogni atto che viene presentato viene reso accessibile attraverso la piattaforma, ogni voto che viene espresso è accessibile, in maniera tale da rendere, come dire, da giustizia di un presupposto fondamentale di un principio democratico, di un principio di partecipazione, che è quello di essere informati, di conoscere in maniera tempestiva delle iniziative che vengono svolte prima che queste vengano decise. Evidentemente l'informazione che si può avere attraverso un albo pretorio è l'informazione di una norma vigente, di una norma che è diventata già imperativa. Il presupposto democratico vorrebbe che i cittadini fossero informati della norma che è in preparazione, in maniera tale da poter interloquire, eventualmente influire sul processo decisionale prima che sia troppo tardi. Ed è questo appunto il presupposto su cui si basa Open Municipio. Volevi dirmi? Cosa che si ricollega a quello che stavi dicendo adesso, cioè se, penso che lei si riferisse a Open Parlamento quando ha fatto la domanda, cioè se questo strumento ricostruisce sempre a posteriori la storia dell'attività parlamentare, cioè le attività dell'attività parlamentare oppure se c'è, diciamo, un modo per seguirla in diretta, diciamo, sì. Il presupposto è quello della tempestività dell'informazione, per cui la tempestività che dipende nel caso di Open Parlamento dalla disponibilità del dato sul sito di Camera e Senato, sui siti di Camera e Senato, che solitamente è di, a seconda della tipologia di informazione che va dalle, che so, dalle 6 ore alle 24-48 ore, dipende dal tipo di dato. Ma sì, il presupposto è quello di fornire un'informazione non ex post, non dopo, ma ex ante, cioè nel momento in cui questa è disponibile, nel momento in cui un atto viene presentato, è immediatamente disponibile su Open Parlamento. Nel momento in cui una votazione si è svolta, ecco, è immediatamente disponibile, a condizione che il dato sia già ufficiale. Allo stesso modo funziona Open Municipio. La differenza tra Open Parlamento e Open Municipio sta nel fatto che nel caso di Open Parlamento abbiamo realizzato quel sito, quella piattaforma, in maniera del tutto indipendente e autonoma, semplicemente facendo uno scraping, cioè grattando questi dati dai siti di Camera e di Senato, ricostruendoli, ricostruendo tutta l'attività parlamentare attraverso il nostro database e attraverso una nostra piattaforma. Nel caso di Open Municipio, visto che questi dati non sono disponibili nei siti istituzionali dei comuni, è necessario che il comune, il singolo comune, aderisca, scelga di aderire a Open Municipio e quindi attraverso una decisione politica, attraverso una decisione dell'organo istituzionale, del Consiglio e della Giunta, scelgano di aprire la propria attività ai cittadini, alle imprese, alla società civile e scelgano di andare al di là di quelli che sono gli obblighi di legge, scegliendo fondamentalmente una strategia politica, una strategia di comunicazione e una strategia di governo aperto, che presuppone che le decisioni migliori sono quelle condivise, che il rapporto più utile, più interessante politicamente e democraticamente più ricco è quello in cui le istituzioni informano costantemente i propri cittadini di quelle che sono le proprie intenzioni, le proprie strategie e danno la possibilità a chi ha altre informazioni, a chi ha altri punti di vista di interloquire, di entrare in relazione e quindi prefigurando un modello di governo, di gestione della cosa pubblica più collaborativo, più partecipato, sicuramente più trasparente. Ma questo non può che allo stato attuale discendere da una decisione degli organi politici e rappresentativi, del sindaco, della giunta e del consiglio. Allo stato attuale Open Municipio l'abbiamo realizzato in un unico comune, che è quello di Udine, che fa da apripista, speriamo per una lunga serie di comuni. Questo sito Open Udine è online dal dicembre del 2012, ma effettivamente è entrato in funzione con la nuova consigliatura, nel senso che siamo andati online pressoché alla fine della consigliatura precedente e all'inizio, verso metà di quest'anno ci sono state le elezioni nel comune di Udine, c'è una nuova giunta, un nuovo consiglio e quelli che sono online adesso sono i dati della nuova consigliatura. È sempre possibile accedere anche ai dati della precedente, ma la sperimentazione effettiva del progetto la facciamo a partire da quest'anno e da questa consigliatura. Come in Open Parlamento e anche in Open Municipio sono raccolte le informazioni principali di quello che accade in comune, quali sono i prossimi consigli, quali sono le prossime commissioni convocate, quali sono gli ultimi atti presentati, quali sono i consiglieri più presenti, più assenti, i più monitorati, cioè più seguiti dai cittadini, quali sono gli atti più importanti, quelli più in evidenza. E come in Open Parlamento anche qui l'attività del consiglio è categorizzata secondo temi e quindi anche qui è possibile entrare nella pagina del singolo consigliere assessore per decidere di seguire quell'attività, monitorarle e quindi essere informati in casella di posta elettronica di tutte le novità. È possibile per esempio navigare i consiglieri attraverso questa pagina dei politici, suddivisi per giunta e consiglio, per esempio nella pagina del consiglio abbiamo una tabella che dà informazione sulle presenze, sui voti ribelli, i voti ribelli sono quelli in dissenso al gruppo di appartenenza. abbiamo l'insieme, come dicevo, dei consiglieri, ciascuno di questi ha dedicata una pagina con le informazioni personali, i dati sulle presenze e le assenze, tutti gli atti che ha presentato per ciascun atto qual è lo stato dell'iter e come dicevo prima, se si va nella pagina del singolo atto ci sono le informazioni sull'iter, lo status dell'atto nel suo iter, c'è la possibilità di accedere in formato testo al testo della delibera, si può accedere a quelli che sono gli allegati alla delibera, in caso ci siano dei voti, come in questo caso, andare al dettaglio del voto e come in Open Parlamento qui abbiamo i dati riassuntivi sul voto espresso dai gruppi consigliari ma anche il dettaglio della votazione del singolo consigliere, chi era presente, chi era assente, chi era favorevole, chi era contrario, astenuto o in missione. Anche qui abbiamo la possibilità di navigare le informazioni di tutta l'attività di giunta e di consigli attraverso argomenti, per esempio in questo caso si può vedere l'argomento piste ciclabili, qua non abbiamo molti atti presentati ma ecco per esempio l'argomento mobilità e anche qui siamo all'inizio dell'attività, vediamo per esempio ambiente, se c'è qualcosa sì, in ambito di ambiente sono state presentate al momento una delibera, abbiamo una tabella riassuntiva su tutti gli atti che riguardano il singolo argomento e la possibilità poi di andare a navigare il singolo atto che si tratti appunto come in questo caso di un'interpellanza o di una mozione o quant'altro e di nuovo qui il testo dell'atto, chi l'ha presentato, gli allegati, eventuali voti e quant'altro. Anche qui i cittadini di Udine possono scegliere nella pagina di un singolo atto di esprimere la loro posizione, lasciare dei commenti, dire se sono favorevoli o contrari, in qualche maniera votare quell'atto e quindi schierarsi favorevoli e contrari e entrare in comunicazione, interlocuzione con i rappresentanti. Anche qui per tornare all'ambito dei dati aperti, un obiettivo del progetto è estrarre, tirare fuori questi dati dai sistemi informativi, dai sistemi gestionali delle istituzioni, metterli a disposizione dei cittadini attraverso la rete, distribuirli il più possibile attraverso l'integrazione con i social network ma anche poi distribuirli in formato aperto in maniera tale che anche altri progetti, altri cittadini, altre iniziative si possano sviluppare a partire dall'utilizzo di questi dati. Quello che esiste attualmente è il nulla, porte chiuse, nel senso che questi dati al massimo sono disponibili attraverso l'albo operatorio online che alla fine distribuisce soltanto gli atti che sono approvati. Grazie. Grazie. Non so se bisogna dare il microfono. Eccoci qua. E allora volevo dire se avete valutato e come insomma se ci sono state delle strategie nuove come conseguenza dell'approvazione e l'entrata in vigore del decreto legislativo numero 33 del 2013 che è quel complesso di norme che ha fatto entrare in vigore appunto il cosiddetto accesso civico ma non solo quello ma anche obbligato le pubbliche amministrazioni a tutti i livelli a pubblicare sul sito internet una serie sconfinata di dati, questo sotto il profilo normativo. Sotto il profilo poi applicativo esiste già un protocollo di intesa fra funzione pubblica e un'associazione privata che io non conoscevo però fortemente blasonata c'è un sito che si chiama Gazzetta Amministrativa che ha un po' il monopolio della pubblicazione di tutti i contenuti informativi delle pubbliche amministrazioni soprattutto quelle meno attrezzate che sono decenni di migliaia comunque e che sostanzialmente ha predisposto una sorta di menu fisso all'interno del quale vanno poi a collocarsi i fax, tutte le delibere, tutto quello che è oggetto di pubblicazione doverosa da parte delle singole pubbliche amministrazioni senza eccezioni. Sì, conosciamo il decreto chiaramente perché è materia che ci interessa da vicino. Per quanto riguarda specificamente gli atti, i dati che sono trattati da Open Municipio non ci sono delle sostanziali novità. Sì, è vero, non c'è una sola posizione. Esatto. Non c'è una sola posizione, è vero che noi ho fatto della vita politica, ma direttamente... Sì, sì. Con Open Municipio siamo sempre appunto in una materia che non è obbligatoriamente da rendere accessibile in formato aperto, neanche nella previsione del decreto 33. Nel senso che noi ci occupiamo di tutta quella parte che precede la decisione. Anche questa iniziativa che riguarda la gazzetta amministrativa, che diceva lei, riguarda comunque atti che sono già disponibili nell'albo operatorio online, fondamentalmente. È un momento dinamico, capito voi, perché tu capiscono. Sì. Voi siete presidiati, è un momento dinamico del rapporto democratico, cittadino, istituzioni. Sì. E quindi il momento vivo della formazione delle decisioni pubbliche. È questo vero? Sì. Quindi, ok, che è una finalità, secondo me, un po' minore rispetto a quello che può dare... economicità ed efficacia delle pubbliche amministrazioni, perché la forza del web, a mio parere, più che andare a presidiare il momento puro e semplice dell'espressione di democraticità in un sistema inevitabilmente, diciamo, destinato a rimanere disfunzionale in termini di democraticità per mille motivi, anche per l'estrema, diciamo, frammentazione e numerosità, insomma. Ecco, più che questo, secondo me, invece, il web può aggiungere valore nella misura in cui si fa strumento per obbligare a dar conto a tutti i portatori di funzioni pubbliche di quello che è il loro operato, ma proprio a obbligarli in senso preventivo, nel senso di inserire l'azione amministrativa all'interno di un percorso in cui a un certo punto c'è un momento che compare in prima pagina sul New York Times, che è il web. Ora, lì io vedo grossi vantaggi per la collettività da parte dell'utilizzo del web. Beh, diciamo, ma questo è solamente un mio punto di vista, mi appassiona un po' meno, diciamo, ma è un fatto soggettivo, l'esercizio della democrazia in un mondo che per definizione non te lo consentirà mai, se non come perdi tempo, ecco, diciamo, di dare valore aggiunto, un valore aggiunto che conta, ecco, nei processi democratici, no? Perché anche su questo io ho un'opinione un po' differente da quella consueta, ecco. Quando tu parli di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, parli soprattutto della parte amministrativa, più che politica? Sì, vorrei pensare, tutte e due, io parlo, sì, tutte e due. Allora, se tutte e due non parliamo di cose molto differenti, nel senso che quando noi utilizziamo i dati del Parlamento, del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale, e li aggreghiamo in maniera tale da costruire delle pagine personali, in queste pagine personali del Consigliere, dell'Assessore, del Deputato, del Ministro, diciamo, quello che ha fatto, come l'ha fatto, i risultati che ha ottenuto e forniamo degli strumenti come degli indici di valutazione che aiutano a capire l'efficacia dell'azione che ha svolto dentro le istituzioni, stiamo parlando di questo, di fornire ai cittadini, cioè agli elettori, degli strumenti di lettura, di interpretazione di quell'attività che, se vista nel suo dettaglio, è impossibile da valutare, perché ti trovi nel mare magnum dell'attività parlamentare, dell'attività delle commissioni, che soltanto avvicinarsi ci vuole un posto di laurea. Il lavoro che facciamo noi è concentrato però sull'attività politica e politica amministrativa, cioè sull'attività rappresentativa, non su quella amministrativa e quindi non perché sia, come dire, meno importante, però dal punto di vista democratico, dal punto di vista dei processi politico-democratici e dal punto di vista dei processi rappresentativi, abbiamo ritenuto e riteniamo che se devi cominciare da qualche parte cominci da quella, cioè dal dato e dal processo politico e rappresentativo. però l'obiettivo è un po' quello che tu dicevi, è ristretto ai rappresentanti, non ai funzionari, non alla parte amministrativa. Sì, sì, no, ma è come dire attività meritorie, io non vorrei che il mio pensiero fosse... No, 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 meritorie in questo senso, però per rendere l'idea, giusto così, anche forse per vivacizzare un po' così il dibattito, l'idea del mio punto di vista, proprio all'interno delle procedure politico, diciamo di gestione politica della cosa pubblica, io piuttosto che mettermi all'inseguimento di un principio di democrazia che rimane sempre formale, che comunque non è mai particolarmente efficace ai fini della funzionalità della nostra vita collettiva. Io opterei, diciamo spingerei, ecco, più che opterei, spingerei, sosterrei, favorirei, che cosa? Una modifica organizzativa, per esempio, negli organi del Parlamento che diano dignità alla funzione dei tecnici, i tecnici mi riferisco ai laboratori di norme, a chi studia e produce le norme, perché si crea una modalità che oggi non esiste, di collegare a ogni disegno di legge, a ogni legge che viene approvata, più che l'iter burocratico di tanti nomi che non si dicono niente, un volto, una faccia di un tecnico, di chi conosce la materia. Io lo dico perché sono lavoro nel ramo e mi rendo conto che tutte le norme hanno un deficit, prima ancora che di democrazia, hanno un deficit di competenza, inteso proprio competenza, conoscenza del problema su cui si è legiferato. Ora, a questo punto io credo che responsabilizzare una persona, chiunque essa sia, a un risultato, a fare una proposta, a farsi portavoci, a rimanere, diciamo, come l'elaboratore di un disegno organico, è un passo avanti, secondo me, che ci dà più benessere rispetto invece a sistemi che vanno a stressare il concetto di democrazia, di cui non abbiamo molto bisogno, secondo me, visto così, perché siamo così in un mondo in cui c'è stata, secondo me, una degenerazione, una forte abuso del concetto di democrazia, per cui oggi, quando si deve costruire un ponte, c'è l'emendamento che stabilisce quanti piloni dobbiamo mettere sotto il ponte, cioè abbiamo reso democratico pure l'ovvio, pure il banale, per decidere, per protagonismo, perché ognuno deve dire la sua, perché ognuno deve conquistare. Allora io non andrei a stressare il concetto di democrazia in sé, perché la democrazia in sé è un dato quantitativo, un sorteggio alla fine, perché diciamo, va a mettere, dare lo stesso peso a voti, a voti che non hanno tutti la stessa conoscenza tecnica di un medesimo problema. Allora lì si crea la gerarchia, lo 0,1% è competente, poi l'altro 99,9%, vota, decide e speriamo che saremo fortunati. Ecco, diciamo, io penso che si debba più andare verso un'assunzione di responsabilità di chi si propone che è competente, poi fa questa cosa, poi ne farà un'altra, purché si sappia e resti agli atti, il web ce lo consente, di chi ha fatto cosa il più possibile in modo compiuto. Sì, nel senso di, siamo d'accordo sul fatto che uno dei presupposti è quello di fornire informazione su cosa hanno in animo i decisori, poi sulla concezione della democraticità e sulla differenza tra competenti e non competenti, chiaramente è una questione molto complessa e molto antica. Uno dei vantaggi della rete e della trasparenza possibile attraverso la rete è che queste informazioni possono essere rese disponibili in maniera tempestiva e a costi praticamente nulli o molto, molto, molto bassi e che in una società complessa come quella che noi viviamo, oltre che complicata, le competenze e le esperienze sono molto più distribuite di un tempo e molto più ricche e distribuite da quanto non si pensi tra i decisori e che molto spesso il tentativo, l'intenzione di tenere ristrette le decisioni per favorire le competenze è in realtà una scelta di interesse, perché meno le decisioni sono conosciute, meno le intenzioni sono conosciute, meno sono informati i cittadini e gli interessati e più si decide per favorire interessi di parte o interessi difficilmente confessabili. Questa è la ragione non procedurale ma strettamente di interesse e di parte che governa in gran parte l'opacità dei nostri sistemi politici, non è tanto per rendere più funzionali le decisioni ma per decidere come gli pare, come pare ai pochi che hanno accesso a queste decisioni. quindi direi in linea di massima sarebbe bene che decisioni che riguardano la maggioranza o la totalità dei cittadini siano conosciute da tutti, conoscibili quantomeno. Poi gli interessati, competenti, incompetenti utilizzeranno queste informazioni se credono, se vogliono, ma quello è un presupposto democratico, altrimenti si restringe l'accesso alle informazioni secondo criteri che poi non sono controllabili e non sono, come dire, bisognerebbe capire chi e come può scegliere chi ha accesso, chi ha diritto di parola o altro. Poi se entriamo nell'ambito più strettamente amministrativo ci sono procedure, procedimenti che hanno una loro logica e quant'altro. Chiaro che è interessante sia il processo a monte, la trasparenza del processo a monte cioè durante tutto l'iter decisionale che anche la valutazione successiva quindi bisogna non soltanto avere a disposizione tutti i dati e le informazioni di iter prima che le decisioni vengano assunte ma anche sui risultati cioè cosa è stato effettivamente fatto dopo che un atto è approvato e fornire delle valutazioni, dei monitoraggi sull'efficacia, l'effettività, l'economicità e il senso delle realizzazioni. Ma questo appunto non toglie che a monte la trasparenza delle decisioni sia un presupposto democratico. Per esempio qui nella pagina del senatore Berlusconi si scopre che e questo è semplicemente un dato che ciascuno può interpretare e utilizzare come vuole che di presenza è al 0,06%. Si dibatte molto sulla possibilità data al senatore Berlusconi di mantenere il proprio mandato parlamentare e poi quando si va a vedere nel dettaglio da circa un anno a questa parte in che cosa si è materializzata questa attività si vede che è pressoché lo 0,06% cioè parliamo di un senso e un'adesione al mandato parlamentare che è appunto espressa in uno 0,0% e in questo caso non c'è neanche l'impegno governativo a giustificarlo. Sono dati, quello che noi diciamo è bene che tutti elettori e non elettori li abbiano a disposizione. Poi le valutazioni sono di tutt'altro tipo, io potrei farmi un giudizio, un altro se lo può fare opposto, la condizione che riteniamo essenziale in una democrazia è che il dato sia accessibile, disponibile e più sia disponibile in formato aperto e meglio è.